ciao a tutti in questo video vi mostrerò come si estraggono e come si conservano correttamente i semi di peperoncino in quattro passaggi fondamentali e alla fine del video vi mostrerò un metodo alternativo più semplice ma più efficace scegliete il frutto migliore che più vi piace insomma che abbia le particolarità che vi interessano per portare avanti quelle caratteristiche e prestate attenzione che sia sano e ben maturo ci sono diversi modi per estrarre i semi da un peperoncino per esempio lo potete prendere e tagliare in due per il lungo ed estrarre i semi tagliando la placenta in un colpo solo verranno via tutti se non siete abituati al bruciore che la capsaicina procura alle mani vi consiglio di utilizzare dei guanti quelli in nitrile proteggono meglio e se utilizzate i guanti potete estrarre la placenta su cui ci saranno tutti i semi semplicemente prendendola con due dita e tirando verrà via in un colpo solo ma è necessario lasciare i semi attaccati alla placenta oppure no cercando in rete quasi tutti i siti che parlano di peperoncini raccomandano di lasciare attaccata la placenta ai semi durante questa fase di essiccazione perché ha una sostanza oleosa la capsaicina che ricoprirà i semi durante l'essiccazione proteggendoli da muffe virus e aumentandone la germinabilità ma sarà soltanto una credenza popolare o c'è veramente qualcosa di scientifico in questo purtroppo nessuno di questi articoli trovati in rete cita delle fonti come dei libri di botanica degli articoli di botanica e purtroppo neppure cercando su tutti i libri che ho a casa io di botanica ho trovato una spiegazione ho provato a contattare l'autore di uno di questi articoli trovati sul web e anche autore di un libro di peperoncini dove spiega esattamente questo procedimento purtroppo non sono riuscito a rintracciarlo molto probabilmente perché è in vacanza ma ci riproverò in futuro per capire se è frutto di una esperienza personale oppure se è frutto di una credenza popolare magari tramandata o se effettivamente l'ha letto in un qualche articolo di botanica o su un qualche libro comunque sia nel corso degli anni ho sempre conservato i semi con e senza placenta ma non ho mai notato alcuna differenza a livello di germinabilità ma un vero e proprio test non l'ho mai fatto e quindi in futuro farò un video test per voi dobbiamo riporre i semi in un pezzo di carta da cucina con o senza placenta così da agevolare l'essiccazione ed evitare che si formino muffe io preferisco ripiegare più volte il pezzo di carta e scriverci sopra il nome della varietà a questo punto mettiamo i pezzi di carta contenenti semi in una zona della casa che sia buia e secca e mi raccomando che sia un posto veramente secco per evitare che si formi la muffa specialmente se c'è attaccata ancora la placenta trascorso qualche giorno recuperiamo i pezzi di carta da cucina contenente i semi e se li abbiamo lasciati attaccati alla placenta stacchiamoli la placenta non buttate la via perché come sapete è la parte del peperoncino contenente la maggior percentuale di capsaicina di conseguenza sarà piccantissima e potete utilizzarla per le vostre preparazioni dal momento che già secca quindi potete metterla nell'olio per esempio per farci l'olio piccante potete metterla e polverizzarla dentro in un mix di spezie di polveri che avete fatto e sbizzarritevi quindi dicevo di togliere i semi e inserirli in una busta adesso c'è chi preferisce le buste di plastica e chi preferisce le buste di carta entrambe hanno dei pro e dei contro le buste di plastica hanno il pregio di proteggere i semi dall'umidità dell'ambiente esterno ma se i semi per sbaglio non sono stati essiccati correttamente si svilupperà l'umidità all'interno le buste di carta hanno il pregio di lasciar fuoriuscire eventuale umidità rimasta nei semi però purtroppo non può proteggere i semi all'interno dall'umidità esterna a questo punto non dimenticatevi di marcare sulla bustina esternamente di che varietà si tratta dopodiché conservare le bustine in un luogo sempre asciutto e buio e così si conserveranno per diversi anni ma se volete aumentare notevolmente il tempo di conservazione dei semi vi basterà congelarli questo che abbiamo visto è il sistema corretto per estrarre e conservare i semi di peperoncino nel caso in cui volete farci delle salse volete fermentarli o volete consumarli freschi ma nel caso in cui il vostro scopo è quello di essiccare i peperoncini per farci delle polveri dei mix di polveri per farci l'olio piccante vi svelo un sistema più veloce più semplice e più efficace quindi logicamente anche in questo caso vi basterà scegliere i peperoncini migliori quelli con le caratteristiche migliori come dicevamo prima tagliarli in due per lungo e molto semplicemente inserirli nel vostro essiccatore preferito impostando una temperatura di 40 gradi centigradi per il tempo necessario ad ottenere i peperoncini secchi possono volerci 24 ore nel caso di peperoncini con le pareti molto sottili come possono volercene 48 e anche di più per peperoncini con le pareti spesse una volta trascorso il tempo necessario vi basterà prendere i peperoncini in questione con la punta di un coltello per esempio o con l'aiuto delle dita utilizzando i guanti togliete i semi dalla placenta mi raccomando di non mischiarli con gli altri semi e di metterli subito all'interno di una busta su cui poi scriverete il nome della varietà con questo sistema otteniamo i semi perfettamente asciutti e se la teoria della placenta è vera abbiamo anche ottenuto questi presunti benefici ma infine che cosa ci rimane i peperoncini secchi e con questi cosa ci facciamo dell'olio piccante per esempio oppure delle polveri e qui vi lascio un video tutorial e con questo è tutto se avete domande come sempre lo spazio sotto al video è tutto vostro grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti